Musica Bentornati a una nuova puntata di KM0 TV, il format che dà spazio all'attività del territorio. Qui con noi oggi abbiamo Cinzia del negozio in Tirega. Ciao Cinzia! Ciao Luisa! Parlaci della tua attività, di quello che fai, di quello che proponi. Sì, la mia attività è una attività specializzata su degli outfit che riguardano il discorso degli eventi speciali, che possono essere una cerimonia, una laurea o un diciottesimo compleanno. Io sono consulente d'immagine, perciò faccio il mio lavoro con amore e dedico la mia professionalità alla cliente, che può avere dai 15 anni ai 75. La cliente quando entra da me cosa cerca? Mi dice prima di tutto l'evento che deve partecipare e il dress code se c'è. E da lì partiamo, in base alle sue fisicità, le sue caratteristiche del volto, dello sguardo, o anche le sue idee, perché a volte entrano che hanno anche loro un'idea, perciò ci dobbiamo incastrare perfettamente. Di solito si parte con l'abito, in questo periodo l'abito di tendenza è l'abito lungo. E da lì, in base alla fisicità, come ho detto prima, indossiamo gli abiti che sono adatti a lei e che a lei piacciono. Una volta scelto l'abito, andiamo con l'accessorio, che l'accessorio si parte dalla calzatura, poi abbiamo la clutch, la pochettina, la borsettina, l'orecchino, la stola, il bracciale, facciamo un total look. Vedo che i clienti rimangono felici, spesso collaborano e ci inviano anche le foto dopo quando hanno partecipato all'evento e questo ci dà soddisfazione. Quindi la cliente è valorizzata? Sì, molto valorizzata. Perché questo è importante? Sì, questa è la richiesta e questo è che noi amiamo fare, perché abbiamo la passione, perciò con la passione si fa questo. Beh, vedo che c'è, la passione c'è, è molto evidente. Quanto tempo ci vuole, appunto, per seguire al meglio una cliente? Guardarli dipende dalla signora o dalla ragazza che entra, perché una volta le ragazzine sono indecise, è la loro prima festa, che può essere il diciottesimo, allora loro dici, ci tengono, vengono con la mamma e lì dobbiamo curarle, dobbiamo metterle a proprio agio perché può essere che sia anche la prima volta che la ragazzina indossi un abito lungo oppure lo vuole corto, allora si passa da lungo al corto, si prova, si fa vedere il tacco per lei che è abituata con le sneakers, figurati a indossare un tacco e lì diventa una cosa proprio così, un rapporto fra me e la cliente amichevole in modo che lei si senta a proprio agio, la faccio anche sfilare in negozio con i tacco. È proprio un'esperienza. È proprio un'esperienza, sì che organizziamo anche dei servizi così, a volte ho delle ragazze che vengono e facciamo dei video e anche delle foto in modo da creare un ambiente familiare, che la ragazza che viene da noi non si deve preoccupare della fisicità o dell'altezza o di questo, noi la mettiamo a proprio agio. Esattamente, questo è il punto più, come dire, quello che ci teniamo di più. Quindi si entra nel tuo negozio, si vive un'esperienza, ok? Sì, sì, un'esperienza totale. Si entra in un modo e si esce effettivamente. Sì, può capitare che la signora entra e mi dice no, ma io non sto bene con l'abito, ma sono bassa, ma si figuriamoci, però so che tutte a questa cerimonia vanno con un abito lungo e allora io come faccio a presentarmi col corto? E allora si inizia un po' la volta e lì vedi che la cliente poi rassicurandola cambia totalmente idea. Totalmente idea. E questo è piacevole perché dopo lei mi dice ma sai che mi sento bene, sai che non avrei mai detto che un outfit così sarebbe perfetto per me e allora lì la soddisfazione aumenta. Aumenta. Allora, ci hai portato qualcosa? Sì. Ci vuoi parlare di… Sì, qui ho portato un esempio di quello che noi proponiamo, questo è anche un abito esclusivo che abbiamo solo noi, con dei dettagli che poi alla fine questi dettagli sono anche riproposti nei gioielli e abbiamo scelto, scelgo sempre calzature che siano anche come dire indossabili e comode e confortevoli perché poi la festa dura, dura per qualche ore e voglio che la cliente sia anche comoda anche dalla calzatura. Poi abbiamo la cinturina che può dare sempre un effetto come dire esclusivo perché più accessori metti e diventa una cosa più personalizzata. L'accessorio fa la differenza? Fa la differenza perché su un abito basic mettendo una cinturina o insomma una calzatura importante, un tocco di luce, tutto cambia. Abbiamo anche sempre le clacce da abbinare ad ogni vestito che può essere una claccia con strass o una mini pochette che poi si può anche riutilizzare. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che noi abbiamo sempre prezzi abortabili in modo che le ragazzine, le signore possano permettersi di usare questi abiti e poi di acquistarne di nuovi perché poi dicono lo metto nell'armadio, non lo uso più. Con il nostro rapporto qualità prezzo si può permettere di acquistarne più abiti, ecco in qualsiasi occasione la cliente sia invitata. Bene, e perché le clienti dovrebbero venire nel tuo negozio? Dovrebbero venire perché noi le curiamo, le curiamo, le rassicuriamo, diamo un'altra qualcosa che altri negozi dove i centri commerciali, un esempio, non possono dare questo servizio perché hanno ragazze che abitualmente sono lì qualche mese e poi cambiano. Qui abbiamo un'esperienza che possiamo dare qualcosa di diverso, qualcosa di diverso e anche un total look che è difficile da trovare perché poi se una cliente prende il vestito e la calzatura deve andare ad un altro posto, dopo non si sa se la calzatura viene abbinata bene, mentre qui viene curata dalla testa ai piedi perché abbiamo anche degli accessori per capelli. Posso consigliare anche l'acconciatura perché anche questo lo posso fare, dopo non ho la parrucchiera, però alla fine possiamo fare tutto quanto. E c'è un clima, come hai detto, familiare. Molto familiare. Si instaura un rapporto proprio con gli amici. Sì, sì, di amicizia che dopo ci si scambiano le foto, diventiamo amiche perché alla fine... Quindi il Tireg diventa una famiglia? Una famiglia, quello che un negozio del centro o in città, una grossa città oppure in un centro commerciale non puoi instaurare perché lì c'è un rapporto diverso, mentre qui c'è un rapporto familiare. Bene, Cinzia, grazie. Grazie a te, Luisa. Perché ci hai illustrato davvero in maniera esaustiva il tuo lavoro e si percepisce la tua professionalità, la tua passione. Grazie, molto gentile. Grazie a te, grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata e ci vediamo alla prossima con Chilometro Zero TV. Grazie, ciao! Ciao, sono Cinzia, questo è il mio negozio in Tirega. Da oltre 26 anni seguo i miei clienti in modo da trovare un outfit adatto alla loro situazione. Da noi puoi trovare dress code per cerimonie, eventi e feste. Vi aspetto qui nel mio negozio in Tirega, Villa Franca Padovala e seguiteci su Instagram e Facebook. Grazie a tutti. Grazie a tutti.